In tutto il mondo, per tutti i popoli e tutte le nazioni, lo sport significa competizione, spirito di gruppo, allegria, dramma, tenerezza e sfida. Le stesse sensazioni che si possono trovare nelle foto esposte al Museo di Roma in Trastevere per la mostra a un mondo di sport e nelle immagini della Reuters. Un viaggio fotografico attraverso i grandi temi dello sport e i grandi campioni del nostro secolo. Le immagini mostra sono di straordinaria bellezza e semplicità. Si tratta di 200 fotografie dedicate agli eventi sportivi che si sono svolti nel mondo dal 2000 ad oggi. Dei successi della nostra nazionale nel mondiale del 2006 ai campioni azzurri e non delle ultime Olimpiadi di Pechino. La mostra a un mondo di sport offre un'occasione per conoscere ancora meglio lo sport e i suoi protagonisti e soprattutto offre lo spunto per riflettere sulla capacità dello sport di trasmettere emozioni, valori, ideali e di essere uno strumento di vita per molti, soprattutto per i giovani. Ecco allora le immagini di una Radcliffe sofferente dopo aver abbandonato le Olimpiadi di Sydney per infortunio, il volto di Usain Bolt, l'uomo più veloce del mondo, quelli sorridenti nei nostri azzurri medagliati, il volo dell'Eisimbaieva nel salto con l'asta e poi non mancano i bambini per cui lo sport è parte integrante della vita. Il mondo dello sport rappresenta un'arena enorme e virtuale dove grandi campioni e tifosi devoti mettono in gioco quotidianamente i loro sogni e i loro ideali. La Reuters è l'agenzia di stampa più importante al mondo. Dal 1860 i suoi corrispondenti sportivi trasmettono una cronaca dettagliata da stadi, campi da gioco e circuiti. I fotografi della Reuters scattano ogni giorno 250 immagini di sport, anche mille in occasione di grandi eventi sportivi.